video ma anche breve mentre sistemo il bambino qua che è tutto spettinato fuori forma allora in tanti mi stanno chiedendo se bisogna smettere di concimare adesso due parole vi dico come concimo io non secondo vabbè chimica del suolo e tutto quanto così perché poi salta fuori sempre quello che ma io faccio così allora perché ho fatto così la pianta a vi dico come faccio io secondo me fate come cavolo volete intanto ecco una cosa importante chi mi ha chiesto per i corsi se andate sul link se guardate qua sotto anche nel link meeting online sul sito bonsai.it le lezioni online ho pubblicato il calendario quindi chi si vuole iscrivere vada e lì trova trova il calendario con i temi e tutto di costi e tutto seconda cosa questa sera va online un video però badate che è un'operazione fatta 4 agosto o un po di video già fatti che ho montato dopo è un'operazione che ho fatto il 4 agosto adesso farla si fa ancora in tempo ma un po tardi però guardatevelo fate bottino poi per l'anno prossimo o valutate secondo il vostro caso se è possibile intervenire quel modo lì non ditemi è fatto tardi così perché anche lì non c'è allora dicevo come facciamo io io adesso voglio arrivare in autunno anzi inverno completamente scarico di azoto modo tale che poi la pianta poi riesce a creare le condizioni per un risveglio poi in primavera corretto e tutto quanto quindi senza residui di azoto nel substrato e per cui cosa faccio io adesso vado non sto a mettere prodotti solamente fosforo e potassio potrei usare penso dei fosfati fosfiti potassi ma no quindi fogliari chimici no uso un concime normale con bassissimo bassissimo titolo di azoto in modo tale che poi l'azoto si dilava se c'è un buono scambio cationico sta attaccato al granello non rilascio troppo la pianta quindi ok e calcio però magnesio perché fa bene potassi calcio e magnesio quello che ci aiuta per andare contro l'inverno solitamente perché vi ho detto il discorso della chimica perché c'è chi dice ama allora devo alzare il pick up nel ph se non l'assorbe in teoria sì oppure paradossalmente se voi avete del substrato contenente calcio mettete acqua più acida perché di sciogliere calcio nel substrato e lo rende disponibile per la pianta ok anche questo è una scamotazione ci sono mille discorsi paralleli da fare per quello che ho detto non sto a dire se non il parto di bla 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 inutili poi arriva quello che ha studiato 40 anni fa e mi dice che oggigiorno hanno scoperto l'azoto allora no scherzo il tricoderma però me l'hanno detto no dicevo quello che consiglio io appunto è un concime con pochissimo azoto attenzione che le condizioni che ci sono state quest'anno hanno limitato molto lo sviluppo i microrganismi quindi se andate a utilizzare un organico molto probabilmente riuscirà a recepire bene fosforo e potassio e 0 azoto quindi nella sfiga che abbiamo avuto col caldo che non si sono propagati microrganismi ce li ritroviamo comunque come un fattore positivo adesso nella somministrazione ancora potete usare benissimo un concime specifico a base chimica che non ci sono problemi base minerale per cui la pianta si becca subito tutto quello che le serve sconsiglio sconsiglio di andare a mettere grosse titoli forti titoli di azoto perché siamo in un periodo in cui le piante a parte qualche cosa come noi ginepri mi stanno lavorando ancora bene però si vede che non costruiscono tessuti non stanno non hanno quella crescita primaverile dove serve il fosforo dove serve l'azoto per cui io ci sto 4 4 con la quaglia nei pantaloni e così non le busco quello che vi consiglio io poi se volete andare giù pesante mettete un bel azotato 20 30 di titolo che tutti i cavoli vostri ciao ragazzi studio bonsai in subria per la vostra formazione in laboratorio tutto quanto mi raccomando il video di stasera perché una pianta bellina ciao